In questo periodo in cui non si possono organizzare manifestazioni, il Festival di Poesia Civile di Vercelli ha deciso di proporre una riflessione appunto sul senso del festival e della poesia civile con alcune personalità della cultura italiana. Cominciamo oggi con il professore Alessandro Barbero che è docente di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale a Vercelli dove ci troviamo in questo momento, ma è uno storico molto conosciuto, è un divulgatore della storia su vari media, ma è anche autore di un recente e fortunato volume su Dante nel centenario della morte di Dante e riconoscendo che appunto la poesia civile ha un fortissimo legame con Dante, chiedevamo appunto al professor Barbero qual è il senso della poesia civile, il ruolo della poesia civile nella biografia dantesca. Ma dunque Dante comincia come poeta d'amore, il giovane Dante non ha affatto in mente una poesia civile in realtà e il Dante lirico rimane poeta d'amore anche se la maggior parte delle sue canzoni e sonetti appartengono alla prima metà della sua vita, quando era ancora a Firenze prima dell'esilio, ma anche dopo il Dante poeta è lirico e innanzitutto poeta d'amore e come poeta d'amore come dire è molto innovativo e sente che sta vivendo una grande stagione, lui lo racconta nella vita nuova, dice una volta i poeti d'amore scrivevano solo in latino, da poco è venuta fuori questa possibilità di scrivere poesia d'amore in lingua volgare, nella lingua di tutti i giorni e lui ci si tuffa in pieno in questa cosa e poi invece la poesia civile viene dopo perché il Dante giovane che scrive poesia a Firenze diventa poi un giovane uomo che ha anche voglia di fare politica, che ha voglia di fare politica in una situazione come quella di un comune dove a tutti i cittadini che hanno un minimo di mezzi è possibile buttarsi nella politica, ci sono centinaia di cittadini che in uno stesso momento fanno parte di un consiglio, partecipano alle decisioni, quindi Dante è poeta d'amore ed è uomo che fa politica e le due cose non sono collegate all'inizio, quando è che si collegano? Si collegano quando la carriera politica di Dante va a finire molto male, Dante viene cacciato dalla città, il suo partito ha perso, i bianchi vengono espulsi, lui va in esilio, comincia la seconda metà della sua vita che per lui è la metà più drammatica, più amara, più triste e per noi invece è una gran fortuna che l'abbiano mandato in esilio perché se no probabilmente non avrebbe scritto la commedia, invece Dante scrive la commedia e allora quella se vogliamo è poesia civile. Io devo dire che ho sempre però un po' di esitazione quanto questo perché ci sono a volte appunto dei colleghi, dei professori che mi chiedono ma scusa appunto Dante come esempio, come esempio politico e civile e a me viene da dire ma veramente Dante è un esempio in quanto grandissimo poeta, Dante è un genio, scrive un capolavoro assoluto, come politico? Era un politico che sosteneva le sue posizioni, che aveva le sue idee, che ne ha fatte di cotte di crude finché era al potere, bisogna anche dirlo e che poi dopo si inventa questa cosa straordinaria la commedia per giudicare il mondo, per assegnare le pagelle a tutti quanti e lo fa in modo grandioso e quindi ovviamente parla dei politici buoni e di quelli cattivi, degli imperatori di come dovrebbero essere e di chi governa i comuni come dovrebbe essere, però quella è poesia civile fino a un certo punto, ecco è poesia politica secondo me. Tu sei anche spesso impegnato, comunque intervieni nel dibattito pubblico, culturale, politico, qual è secondo te il ruolo oggi della poesia civile, dei poeti civili se ci sono anche diciamo pure anche nella confusione della vita nazionale? Ma guarda io credo che sia difficile capirlo oggi perché il ruolo dei poeti civili è anche una cosa che matura col tempo e che si capisce col tempo, voglio dire, io non è vero che seguo molto la vita culturale e politica italiana di oggi, io faccio lo storico, sono abbastanza immerso nei miei studi, poi ogni tanto mi trascinano per forza, ma come ogni cittadino vedo, come dire, gli italiani guardano sempre con un po' di sgomento la vita del proprio paese, la vita politica del proprio paese, non credo ci siano molti altri paesi in cui è così comune come da noi dire queste cose succedono solo in Italia, ecco la solita Italia, va bene, noi siamo un po' distaccati, un po' cinici anche, la poesia vista dal cittadino comune che non la segue da vicino non sembra un fattore così decisivo della nostra vita collettiva, della nostra vita politica, della nostra moralità politica, poi però mi dico che sarà il tempo a giudicare, noi abbiamo avuto grandi poeti politici nella generazione precedente, penso a Edoardo Sanguinetti per esempio, ecco io credo che Sanguinetti sia un poeta che continuerà e che è stato un testimone di quella che è stata l'Italia dal dopoguerra al 2000 come ce ne sono pochi altri e penso che poi a volte a distanza di tanto tempo gli storici scoprono che i più grandi testimoni politici di un'epoca sono stati i poeti, io penso a quello che è per la storia del Novecento Anna Akhmatova per esempio, no ecco il Novecento, il Novecento russo, sovietico, la tragedia è la grandezza dell'Unione Sovietica, io credo che ancora per secoli più dei libri degli storici, degli analisti e così via, il Requiem di Anna Akhmatova sarà qualche cosa che parlerà per sempre per raccontare cosa è stato il Novecento, no? E quindi come dire, la speranza è quella che la poesia politica sia qualcosa che sta anche quando magari non te ne accorgi, ma che è uno dei lasciti ecco per il futuro. Alcuni di questi grandi poeti del Novecento il Festival li ha anche già premiati, e quindi allora volevo appunto parlare con te dei festival, perché tu sei anche uno che frequenta molto i festival, sei uno degli ospiti, delle guest star di alcuni festival. Allora, si dibatte molto sul valore dei festival, alcuni sostengono che siano state una delle grandi iniziative, delle grandi presenze culturali di questi primi decenni del nuovo secolo, del nuovo millennio, alcuni invece criticano un po' insomma come sono una passerella, si dice una cosa effimera, superficiale. Noi da 15 anni facciamo questo festival, ecco, la tua idea sui festival, sul loro valore culturale qual è? No, hanno ragione i primi, hanno ragione quelli che dicono che è una delle grandi cose dell'Italia della nostra epoca, una delle poche grandi cose, perché voglio dire, io ormai ho un'età per cui posso dire, mi ricordo com'era l'Italia di 40 anni fa, di 50 anni fa, 50 anni fa ero bambino ma c'ero, ed era migliore di quella di adesso da molti punti di vista, era migliore di quella di adesso per il, come dire, il senso di appartenenza e per il senso che c'era un futuro e per quanto erano importanti i giovani nell'Italia di allora. Quel paese era meglio, benché fosse più povero, e non avevano il telefonino, non avevano internet, ed erano più indietro in mille battaglie civili, non si sapeva niente ancora o quasi di ecologismo, di diritti delle donne, però era un paese, come dire, invidiabile rispetto a quello di oggi, il paese è il mondo, però una cosa che l'Italia di oggi ha e che non c'era una volta sono proprio i festival, nella vita culturale del paese, intendendo come vita culturale una cosa che non è soltanto la discussione sulle terze pagine dei giornali, fra gli addetti ai lavori, ma una cosa che coinvolge il tessuto sociale, e beh, i festival fanno la differenza, e credo anche di poter dire che è una cosa molto italiana, cioè negli altri paesi non c'è una rete così fitta di festival, se Dio vuole è l'Italia di sempre che viene fuori un paese di città, noi siamo un paese di mille città, nessuno delle quali ammetterà mai di essere una cittadina di provincia, siamo un paese di mille capitali noi, e l'orgoglio delle città italiane fa sì che ogni città italiana ospiti un festival ormai, che è qualcosa che per dire in Francia o in Inghilterra sarebbe inconcepibile, non ci potrebbe proprio essere negli Stati Uniti, sarebbe inconcepibile questo, e quindi è una cosa di cui possiamo per una volta andare orgogliosi. Ecco, allora anche noi facciamo parte di questa eccellenza del festival italiano, il festival di poesia civile, che chiude qui questo appuntamento col professor Barbero ringraziandolo, saluto tutti, salutiamo tutti e alla prossimo appuntamento, al prossimo incontro. Grazie e grazie al professor Barbero. Grazie a voi.